Chi annuncia la speranza di Gesù è portatore di gioia e vede lontano perché sa guardare al di là del male e dei problemi. Al tempo stesso vede bene da vicino perché è attento al prossimo e alle sue necessità. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa per il Giubileo dei Catechisti tenuto in piazza San Pietro. Ai più di 15.000 catechisti presenti il Papa ha ricordato l'importanza di portare il primo annuncio. Gesù è risorto e ti ama personalmente, così come sei. Fagli posto nonostante le delusioni riferite della vita, lasciagli la possibilità di amarti. Come il povero Lazzaro nella parabola del ricco Epulone, inserita nel Vangelo Dominicale, siamo chiamati a non ostentare apparenza e a non ricercare gloria, ma nemmeno possiamo essere tristi e lamentosi. Non siamo profeti di sventura che si compiacciano di scovare pericoli o deviazioni. Non gente che si trincera nei propri ambienti e mettendo giudizi amari sulla società, sulla Chiesa, su tutto e tutti, inquinando il mondo di negatività. Lo scetticismo, l'aventevole, non appartiene a chi è familiare con la parola di Dio. Commentando ancora la parabola di Gesù, Papa Francesco ha ricordato che nel ricco Epulone, che non si accorge del povero Lazzaro davanti alla sua porta, è entrata la mondanità che anestetizza l'anima. Vede solo le apparenze e non si accorge degli altri, perché diventa indifferente a tutto. E invece è amando che si annuncia Dio amore, ha detto ancora il Papa ai catechisti, non irrigidendosi attorno a qualche obbligo religioso o morale, ma incontrando le persone con attenzione alla loro storia e al loro cammino. Grazie a tutti.